Con ancora negli occhi l'orrore delle oltre 300 bare delle vittime del naufragio di Lampedusa, il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta è rientrato a Palermo per affrontare la forte ondata migratoria dal Nord Africa, per aiutare la comunità lampedusana e soprattutto evitare che si possano ripetere nuovamente tragedie come quella del 3 ottobre scorso. Questa innovazione credo che sia un grosso cazzotto alla bossi figli. No, i pescatori che faranno azione umanitaria e salveranno vite umane saranno risorciti del mancato guadagno e delle spese che loro avranno fatto. Un internizio, un modo come aiutare, creare concretamente quel corridoio umanitario che è fatto di volontariato e che è fatto di questi lampedusani generosi che però a volte dopo aver aiutato invece di essere riconosciuti e premiati come eroe magari si trovano inquisiti. Questo non può andare. L'Aggiunta regionale comincia con questa delibera immediatamente a cambiare ottica rispetto all'apetuzione. Infine il Presidente della Regione ha annunciato la volontà di aderire ad ogni iniziativa utile per il riconoscimento del Premio Nobel per la Pace all'isola.